Sicuramente non è stata una buona partita dal punto di vista delle occasioni, da parte di tutte e due le squadre. Sicuramente non meritavamo di perdere. Nel secondo tempo, anzi, avevamo l'impressione che eravamo partiti bene, li avevamo schiacciati davanti alla loro porta, avevamo l'impressione di poterla vincere, poi purtroppo abbiamo fatto un errore. Tra l'altro non so nemmeno se era il rigore o meno. Niente, purtroppo ripartiamo ora dalla prossima, cerchiamo di lottare ogni partita per portare punti. Di giro la stessa domanda che ho fatto a Mr. Masi, quanto rammarico c'è dopo aver fatto una buona prestazione e non tornare a casa a mani vuote senza punti? Il rammarico è tanto, perché lavoriamo sempre ogni settimana al massimo, anche se abbiamo qualche problema di infortuni, quindi siamo un po' così. Ma sicuramente dobbiamo migliorare dal punto di vista offensivo, perché abbiamo creato poco, onestamente. Anche se loro non hanno fatto nemmeno un tir in porta. Però anche noi dobbiamo cercare di migliorare dal punto di vista offensivo e cercare di stare più attenti, evitare errori, perché alla fine un punto si poteva portare a casa.